Sì, ho manifestato la mia emozione perché penso che un uomo può manifestare anche la sua emozione se crede in questa città, se ama questa città. Io mi emoziono, ma non mi vergogno di questa emozione, anzi vorrei avercela sempre, in tutto il mio periodo vorrei averci un'emozione perché sei anni emozione vuol dire che vuoi molto bene a questa città. Ha voluto intorno a sei dipendenti, i vicini urbani e ha parlato di una squadra fortissima che la affiancherà in questi cinque anni. Io sono abituato a fare una squadra, l'ho fatto nella mia azienda, ho dei ragazzi nella mia azienda che mi amano e voglio venire a braccia aperte per tutti i miei collaboratori del comune, perché il sindaco non sarà un grande sindaco se non ha i suoi collaboratori del comune che lavoreranno con lui.